Tutti, eh? E' facendo 100 Sto gli datti lo servizio a tutti qua Ma non c'hanno nessuno Allora? Ha giocato tutti i chiti su casa con la coppia di spalla E' la cosa bella Ha già avuto i soldi, le soldi all'assicurazione 500 mila euro Puglie pure la pensione Non c'hanno nessuno Ci pensate che fossi a fare un viaggio in Bahamas E' 7-8 anni, per 7-8 anni non paga ogni ora mia Ci pensate che giorno Che felicità Ma non il scema No, prima della scemità Lo lasciavo qui La scema la famiglia E' sempre la donna E ti? Allora? Quando ti dicevi tutte le cose Ti facevi E tu Ti tocco che va veramente E lo facciamo Perché non so Io l'avevo capito che tu facevi apposto Si no Quella è buona Quella è brava Come facevi rispetto a me E' perchè qua devo caso capirò che non mi faccio il rispetto Lo faccio perchè mi voglio appena Non mi raccomando No, perché non mi faccio il rispetto Non mi faccio Non mi faccio Non mi faccio E' stato un scema Non mi faccio E' stato un scema E' stato un scema A carcere in malattia Appena hanno pensato che ero scema Che si faceva il rispetto E' stato un po' che è possibile E' stato un po' per un'altra volta Tutti qua Non c'è niente da fare Non c'è niente da fare La porta Sarà la Cocrù Aspetta, aspetta Alessandra Eh? Alessandra, hai la mia porta, va? Si Ah, Agnucco Sì, vado Non posso rompare Sì, andiamo con questo capito Sì, vado 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 Vado Sì, vado Vado Sì, 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 vado Signora, raccomodatevi Ma voi state troppo agitata Mi affro un bicchiere d'astro No, no, grazie Grazie, signora Mi sono andato ieri Salvatore Esposito E chi è? Ho visto un camion che ha messo il tuo marito posto. Perché mi sta scendendo pazza, signora. E che il marito mi ha scelto? Che sta scendendo pazza? Perché chi le dice che il tuo marito posto è sembrato sotto il camion. Ma gente, ho conosciuto perché chi le fa artista, può fare bene tutto quanto. Ma questo è la darice. Questo è la darice perché quello è sembrato sotto il camion. Il mio marito mi ha aperto posto, signora. Il mio marito mi ha fatto pure aprire una palloncina. Come voi vedete, se ne ho avuto un bicchiere, che non facciamo la mamma. E mi risulta accolizzata. Signora, il mio marito mi ha aperto posto. E qui ci pensate che succederà a casa mia. Questi maglioni chi sono? Sono i figli miei. Ah, signora. Io mi tengo 5 di tuo vetti. Perciò mi ha raccomandato. Niente a vostro. Perciò il mio marito posto è una darice perché si è venuta sotto il camion. Il mio marito. Iniezza via. Iniezza via. Pure i 5 figli miei. Capite, signora? Mi ha raccomandato, signora. È stata la mano della coscienza. Ti tengo 5 giovedì. 5 da tengo. Perciò mi ha raccomandato via. Perciò mi ha raccomandato via. Non è vero. 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 ma che farà? secondo me si lascia farà no no Aldo, te lo dico io, papà non è serio, papà non ne manda 5 miliardi, papà si fa al costito qui ma così vende tutti i soldi dell'assicurazione e perdurami inzio, ma non riesci a prenderlo Zitto, zitto, stavo regalo papà, ma che fai? eh mia papà, che ce la fai?